La legge di attrazione. La legge di attrazione dice che i simili si attraggono, ma in realtà si sta parlando a livello di pensiero. Quando lo vedi nella tua mente, ce l'hai a portata di mano. L'effetto placebo è un esempio di legge di attrazione quando un paziente crede veramente che la pastiglia costituisca una cura, riceve quello che crede e viene curato. La legge di attrazione è una legge di natura, e impersonale non fa distinzione tra cose buone e cattive capta i nostri pensieri e ce li trasmette come esperienze di vita. Quello che noi pensiamo poi lo viviamo. Quando pensiamo a cose che vogliamo veramente concentriamo su di esse tutte le nostre intenzioni e la legge di attrazione darà esattamente quello che abbiamo desiderato. Ma quando focalizziamo la nostra attenzione sulle cose che non vogliamo, non voglio fare tardi, non voglio ammalarmi, non voglio morire, eccetera. La legge di attrazione non presterà ascolto al fatto che non le vogliamo, ma procurerà le cose che stiamo pensando, e infatti poi si verificheranno puntualmente. La legge di attrazione non tiene conto dei no, dei non, o qualsiasi altra negazione. Per esempio, non voglio fare tardi, accadrà. Farai tardi. Non voglio ammalarmi. Accadrà. Ti ammalerai. Non voglio litigare. Accadrà. Litigherai. La legge di attrazione ci dà quello a cui stiamo pensando. I pensieri. I pensieri diventano le cose che si concretizzano nella vita. I pensieri in pratica si trasformano in cose reali. Mentre si pensa, i pensieri vengono proiettati nell'universo e attraggono magneticamente tutte le cose simili che si trovano sulla medesima frequenza. Tutto quello che viene emesso fa ritorno alla sorgente, e la sorgente siamo noi. Il processo creativo. Uno passo chiedi. Diamo un ordine all'universo, facciamogli sapere che cosa vogliamo. L'universo reagirà ai nostri pensieri, ma se non abbiamo le idee chiare la legge di attrazione non potrà portare quello che vogliamo. Due passo credi. Crediamo che ciò che vogliamo sia già nostro. Dobbiamo credere di aver ricevuto quello che abbiamo chiesto. Dobbiamo sapere che ciò che vogliamo è nostro nel momento in cui lo chiediamo. Necessita una fede totale e assoluta. Nel momento in cui chiediamo, e crediamo sapendo di avere già a livello invisibile quello che vogliamo, l'intero universo si muove per portarlo anche a livello visibile, cioè reale. Dobbiamo agire, parlare e pensare come se lo stessimo ricevendo ora, perché l'universo è uno specchio e la legge di attrazione ci rimanda l'immagine dei nostri pensieri dominanti. Tre passo ricevi. Cominciamo a sentirci meravigliosamente bene all'idea di ricevere quello che abbiamo chiesto. Immaginiamo e viviamo come ci sentiremo quando arriverà, ma immaginiamolo adesso, in questo momento. Quando abbiamo chiesto, crediamo di averlo ricevuto e tutto quello che resta da fare per averlo e sentirsi bene. Quando stiamo bene, siamo sulla frequenza dell'accoglienza, siamo sulla frequenza che fa arrivare tutte le cose buone e riceveremo quello che abbiamo chiesto. Quando sentiamo di averlo già e la sensazione è così reale che ti sembra di esserne già in possesso, credi di averlo ricevuto e lo riceverai. Se crediamo a qualcosa solo a livello intellettuale, ma senza il supporto di un'emozione corrispondente, è inevitabile che abbiamo abbastanza forza per attrarre ciò che vogliamo nella vita. Dobbiamo sentirlo. Tutto quello che voi chiederete pregando, credete di averlo già ottenuto e vi avverrà. Matteo 11 24. La gratitudine. La gratitudine è senz'altro il sistema migliore per far arrivare più cose nella nostra vita. La pratica della gratitudine è una delle vie attraverso le quali arriva la ricchezza, qualsiasi esso sia. Quando ringraziamo come se avessimo già ricevuto quello che volevamo, trasmettiamo un potente segnale all'universo. Il segnale comunica che possediamo già quella cosa, dato che proviamo gratitudine per il fatto di averla. Ogni mattina proviamo gratitudine per la giornata che ci aspetta, come se l'avessi già vissuta. Realizziamo qualunque cosa pensiamo e per la quale esprimiamo gratitudine. Il processo di visualizzazione. Il motivo per cui la visualizzazione è così efficace dipende dal fatto che creiamo nella mente delle immagini in cui ci vediamo già in possesso di quello che vogliamo, dando origine a pensieri e sensazioni ed emozioni che proveremo se quella cosa fosse nostra. La visualizzazione è un pensiero focalizzato con intensità sulle immagini, e per questo produce emozioni ugualmente intense. La visualizzazione invia questa intensa frequenza all'universo che risponde restituendo le immagini come le abbiamo viste nella mente. Decidi cosa vuoi avere. Credi di poterlo avere. Credi di meritartelo e di averlo a portata di mano. Poi chiudi gli occhi per qualche minuto e visualizzati in possesso di quello che vuoi, prova le sensazioni che avresti se fosse già tuo. Esci dalla visualizzazione e concentrati sulla gratitudine che già provi, e goditi davvero il possesso di quella cosa. Poi riprendi le tue attività normali e affida tutto all'universo, confidando nel fatto che saprà come farti avere ciò che vuoi. Se un avvenimento o un momento non è andato secondo i tuoi desideri, ripetilo mentalmente in un modo che ti entusiasmi. Ricreando quegli episodi nella tua mente proprio come li vuoi, ripulisci la frequenza dall'energia di quella giornata ed emetti un nuovo segnale e una nuova frequenza per l'indomani. Hai così creato nuove immagini per il tuo futuro. L'immaginazione è tutto. È l'anteprima delle attrazioni che la vita ci riserva. Albert Einstein 1879-1955. Il segreto della salute. Il nostro corpo è il prodotto dei nostri pensieri. Pensare alla salute perfetta è qualcosa che chiunque di noi può fare a livello interiore, indipendentemente da quello che ci succede intorno e all'esterno. La nostra fisiologia crea la malattia per darci un feedback, per farci sapere che abbiamo una prospettiva sbilanciata o che in quel momento non proviamo amore e gratitudine. I segnali e i sintomi fisici in questa ottica non sono così terribili. L'amore e la gratitudine dissolvono ogni negatività nella nostra vita. Il riso attrae la gioia, elimina la negatività e produce cure miracolose. Non c'è posto per la malattia in un corpo sano dal punto di vista emozionale. Il tuo corpo elimina milioni di cellule al secondo e nello stesso tempo ne crea milioni di nuove. La scienza ha dimostrato che il nostro corpo viene completamente sostituto nel giro di pochi anni, com'è possibile allora che quella particolare degenerazione o malattia vi rimanga per anni? Può essere trattenuta nel nostro corpo solo dal pensiero, dall'osservazione della malattia e dall'attenzione che le si presta. Formulare pensieri di protezione. Formuliamo pensieri di protezione. Non c'è posto per la malattia in un corpo dotato di pensieri armoniosi. I pensieri imperfetti sono causa di tutte le disgrazie dell'umanità, compresa la malattia, la povertà e l'infelicità. Formulo pensieri perfetti. Vedo solo perfezione. Io sono la perfezione. Se abbiamo una malattia e ci concentriamo su di essa parlandone agli altri, finiamo per produrre altre cellule malate. Immaginiamo di vivere in un corpo perfettamente sano. Parlare in continuazione della malattia alla gente, significa pensarci sempre. La causa della malattia sta nel pensiero per cui è bene ripetere spesso. Sto magnificamente. Mi sento proprio bene, e senti che è davvero così. Quando le persone si concentrano completamente su ciò che non vai sui loro sintomi, non fanno altro che perpetuare quella situazione. La guarigione non avverrà finché non avranno spostato l'attenzione della malattia alla salute. Così funziona la legge di attrazione. Non dobbiamo lottare per liberarci dalla malattia, già il semplice lasciare andare i pensieri negativi consentirà al nostro naturale stato di salute di emergere dentro di noi. E il nostro corpo provvederà alla guarigione. Sii consapevole dei tuoi pensieri. Tutto il potere risiede nella consapevolezza di esserne dotato e consiste nel continuare a esserne cosciente come si fa a diventare più consapevoli. Un metodo è quello di fermarti e chiederti che cosa sto pensando in questo momento. Quali sono le mie sensazioni adesso? Nell'istante in cui te lo chiedi sei consapevole, perché hai portato la tua mente al momento presente. Ogni volta che ci pensi, fai in modo di tornare alla consapevolezza del qui e ora. Fallo centinaia di volte al giorno perché, ricordatelo bene, tutto il potere racchiuso nel tuo esserne consapevole. La verità assoluta è che l'Io è perfetto e completo. Il vero Io è spirituale. E quindi non può mai essere meno che perfetto. Non può mai soffrire di mancanze, limitazioni o malattie. La meccanica quantistica lo conferma, e anche la cosmologia quantistica l'universo nasce dal pensiero e tutta la materia da cui siamo circondati è semplicemente pensiero precipitato. In definitiva siamo la fonte dell'universo e, quando ci rendiamo conto di questo potere per esperienza diretta, possiamo cominciare a esercitare la nostra autorità e a conseguire sempre più risultati. Creare qualunque cosa. Conoscere ogni cosa dall'interno del nostro campo cosciente, che sostanzialmente è la coscienza universale che guida l'universo. Quindi il tipo di corpo in termini di salute e il tipo di ambiente che creiamo dipende da come usiamo questo potere, se in modo positivo o negativo. Pertanto, siamo i creatori non solo del nostro destino, ma anche del destino universale. Siamo i creatori dell'universo. Dunque non ci sono veramente limiti alle potenzialità umane. Il limite è la misura in cui riconosciamo queste dinamiche profonde e le mettiamo in pratica, la misura in cui abbiamo il controllo sul nostro potere. E questo ha effettivamente a che fare con il livello al quale pensiamo. Articolo tratto dal libro The Secret. Di Rhonda Beard. Grazie. 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 Grazie a tutti.